Inizio, in lupita gloria, in luce la nostra bella, da chi ha la niente scuote. Noce, l'amore, grande, di un'amore di vita, o noce, l'amore, grande, e steve di gloria e valutare. Nostra gloria è la gloria di Cristo, in lupita gloria, in luce la nostra bella, da chi ha la niente scuote. Inizio, in lupita gloria, in lupita gloria, un augurio più bello, non potevamo riuscire all'inizio della giornata, avere santo c'è un mese e un mese e un mese e un mese e un mese. Per questo si chiude. Quindi, per chiedere questi nomi, si non dessino riuscire a 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 riuscire. Questo è un modo particolare, perché cominciamo la Santa Quaresma, abbiamo contagiato la prima domenica di Quaresma, quando impongo questo viaggio, questo potrebbe venire anche giù, verso la Pasqua, diventa veramente colma inizio sovere, se vogliamo, coltunque, in particolare, con una bella cardinale, sono state che sono restate iniziali. Stiamo attenti a quello che si può decidere, perché sono le varie lambe di questo pedeglio di ciò che dobbiamo fare verso la Pasqua. non si fa il pregare solo al loro di cui con l'unica la Santa Quaresma. Nelle pregare la prima domenica è presso la Pasqua. Preparere invece, ma questo è stato di piacere. E per celebrare pienamente i disperiti non riconosciamo i peccati domandando le volumiltà di quello che non è stato iniziali. iniziali. Signore, Gesù, immagino e bravole misericordioso e paziente del Padre, abiti e pati. Signore, abiti e pati. Cristo, Gesù, nostra luce, nostra forza, nella nostra forza con lo Spirito del Padre, abiti e pati. Cristo, e pati. Signore, parola, Dio, che il tesoro rimane confessore sul cuore e della vita abiti e pati. Signore, Dio, 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 che il teatro ha il misericordio do, perdona, vostri peccati, e ci conduca alla tutela eleterra! Che chiama! O Dio, tuo Padre, con la celebrazione di la testa quaresima, seduta il sacerdotale della vostra conoscenza, concedi a Tore con i veneri crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una denti e un dono di vita. E' il nostro sottotitolo su Cristo, Dio e Dio, e vive a quegli anni potenti e diventate un spirito dato per tutti i secoli e i secoli. Amo. Amo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 E' 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.